Buonasera a tutti. Dal mio titolo si capisce già che io mi porgo come testimone e dal momento che sono una madre, una sposa, una figlia, desidero prima di tutto farvi vedere questo video che le mamme di Facebook hanno costruito per Cattolica 2012. Ve lo porto come fosse un certo, un mazzo di fiori per tutti coloro che hanno perduto dei giovani ragazzi. Grazie. Alzate le mani perché sono... Non battetele. Ecco, sono solo una campionatura. Sono tutti quassù i nostri cari. State certi che non sono lontano. Li potete toccare con mano. Questi sono i nostri campioni. Tutti i nostri cari. I nostri angeli. Proprio angeli veri. Non gli angioletti con le alucce. Questi sono angeli reali. Di qui nasce il mio racconto, il racconto di una vita. È uscito qualche tempo fa un libro della Mondadori. Un libro edito appunto dalla Mondadori e scritto da una giornalista molto capace, Stefania Rossotti. Il libro si chiama Ti parlo da una vita. Un titolo quanto mai reale per la mia storia. Io in questi anni, nonostante i successivi lutti, i successivi eventi, non ho mai concesso un'intervista per le cose anche abbastanza importanti che succedevano nella mia famiglia attraverso poi tanti dolori e tante sofferenze. Però quando da Gemma Cometti, che conoscerete tutti, la mamma di Davide che abita a Taranto, mi fu mandata questa persona in casa, per la prima volta dopo anni, a nome del mio ragazzo, il mio tenente, che voi avete visto fra tutti questi angeli, mi sono permessa di rilasciare quello che era il mio percorso. Siamo in tante, come vedete. Queste sono le metafoniste di Facebook che hanno raccolto tutte le testimonianze e le foto delle varie madri. Ma in questo libro, vi ripeto, Ti parlo da una vita, c'è la testimonianza di Gemma Cometti, la mamma di Davide, come avevo detto, Marta Toniolo di Pisa, la mamma di Giovanni, Maria Grazia che ha perso nel terremoto dell'Abruzzo, Ilaria e Paolo, li avete visti i due giovani insieme, Maria Letizia che è la mamma di Mariana, che appunto ha la pagina Facebook Tutti i pazzi per Mary. E proprio lei mi ha mandato i giorni scorsi un libretto che ha pubblicato in proprio e molto gentilmente me l'ha mandato, mamma la parola più bella. Sono le considerazioni che una madre può fare di fronte a quello che viene definito il più grave lutto che ci possa essere per una persona. Io, a dir la verità, come testimonianza, anche proprio come movimento della speranza, dico sempre che il dolore è proporzionato alla qualità dell'amore, perché voi sapete bene che ci sono madri, io sono stata dirigente scolastico, che non sanno di averli figli e me li mandavano a scuola nelle condizioni peggiori. Ci sono spose invece che non si rassegnano alla perdita di un compagno con il quale possono avere condiviso anni e anni di vita. Io, ripeto, mi ritrovo proprio ad essere una di queste, perché pur avendo perso i due figli mi sono ritrovata con perdita di mamma, di papà ancora giovane, ma poi ad agosto di questo anno anche il mio sposo, col quale avevo condiviso questi lutti gravi, se n'è andato. L'anno scorso, quando venni, venni con il cellulare sempre in tasca, sempre presente, oggi l'ho lasciato su in camera e ho detto vado al convivio perché vado a salutare il mio maestro, il professor Liverziani, che di per sé mi ha proprio insegnato un cammino. Quella relazione che ho sentito leggere prima, per me, è un testamento spirituale grandissimo. Forse proprio con questo andare e venire di questa porta, che quest'anno effettivamente non avevo capito che ci fosse stato il girare, però effettivamente porta via dell'attenzione. Ma quella testimonianza, ripeto, è veramente un testamento spirituale di un uomo che ha dato tantissimo per questa causa, il credere nella sopravvivenza. E grazie a Dio ho visto che lì, fra i pochi libri che avete messo, esposti quest'anno, c'è proprio il libro dal quale sono partita, Sopravvivenza e vita eterna. Perché è lì che potete trovare il succo, potete trovare il nocciolo, potete trovare l'esperienza vostra che diventi gratificante e un percorso da vivere, non con il fazzoletto in mano, ma col sorriso. Sorrisi che voi vedete ci comunicano dal cielo. La mamma di Marianna ha scritto, proprio qui all'inizio, un qualcosa che volevo leggervelo subito, perché così pregano le mamme. Dicevo prima con Felice Masi che la sera ci ritroviamo nella pagina Facebook di Rosa e diciamo, recitiamo le preghiere più belle che ci vengono dal cuore, perché non sono preghiere formali, sono preghiere che vengono proprio dettate dall'anima, alle volte esasperata, alle volte disperata, come ad esempio quella della mamma di Giovanni, di Marta Toniolo, che è dedicata al proprio figlio. Ma questa della mamma di Marianna è fresca, perché me l'ha mandata la settimana scorsa e io appunto l'ho messo sulla mia pagina di Facebook, così pregano le mamme. Io non comprendo i tuoi disegni, padre. Non posso capire perché l'hai già richiamata a casa, strappandola via alle mie amorevoli braccia materne, ma io mi fido di te, sia fatta la tua volontà, non la mia. Però, ora, io sono davanti a te svuotata di tutto, ricolmami, sono davanti a te completamente sfinita, inerme in tutta la mia umana debolezza. Dammi tu la forza, sarai tu non solo mio padre, ma anche il mio medico e il mio psichiatra. D'ora in poi penserai tu a me, io mi butto a corpo morto in te, mi abbandono a te, sono fra le tue braccia, tu mi consolerai per il resto dei miei giorni. Che può dire di più una madre? Io penso che queste siano veramente le parole più sante di un percorso da vivere. Come vi ho detto, ti parlo da una vita, è stato un percorso per me profetico, in quanto che iniziando con il Movimento della Speranza, con il caro Filippo, con i coniugi Leardini, non so Felice se hai visto che è mancata una delle nostre mamme più importanti, Angela Leardini, è mancata 15 giorni fa, quindi pilastri del Movimento della Speranza, uno alla volta lasciano brandelli di cuore in giro. Io mi ero presentata con mio marito a Baveno e avevo conosciuto questi pilastri del Movimento e non avrei mai immaginato che qualche anno dopo mi sarei ritrovata ad essere una testimone. Come ho detto tempo fa, come abbiamo raccontato spesso, perché mio marito è stato relatore al convivio, fino al 99, pensate, fino al 99 portava qui, in questi convegni del convivio, le nostre esperienze. Siamo partiti a piccoli passi, ma il nostro ragazzo non ci ha mai abbandonato, per cui siamo partiti immediatamente con esperienze forti, con esperienze importanti e poi venni chiamata al Movimento della Speranza, a cattoliche. La mia prima relazione fu proprio, senti come l'universo parla, perché mio figlio con queste parole mi dava giustificazione di sé, della sua presenza, delle sue parole, come era avvenuta quindi la nostra trasformazione. Noi da poveri, da derelitti, da pellegrini, Come ha detto ieri sera, mi ha tanto commosso il nostro Santo Padre Benedetto XVI andandosene, il successore di Papa Giovanni Paolo II, per il quale ero venuta l'anno scorso a chiedere, anche per mio marito, un pochino di pace, un po' di serenità, un po' di tranquillità, come lo chiedo adesso per Filippo, forse l'ultima volta che vengo a Roma per dare un ultimo saluto al convivio, ma il nostro divenne proprio uno spezzare il pane. Cosa significa questo? L'ho detto anche a Cattolica. Cos'è avvenuto con i discepoli di Emmaus, che hanno riconosciuto nella trasfigurazione proprio Gesù, nel momento dello spezzare il pane? Su quella mensa loro hanno capito che quello era veramente il Cristo risorto e in quel modo avevano capito che quindi lo spezzare, la sensibilità che ne deriva quando noi spezziamo un boccone di pane, quando lo distribuiamo agli altri, quando condividiamo insieme, come io sto facendo adesso con voi, come stiamo facendo insieme in comunione d'anima, in questo spezzare il pane c'è quel dono, quel dono d'amore del quale parlava Filippo prima nella sua relazione, quando appunto parlava di dono di Dio. Andrea infatti si è rappresentato così a Baveno. Io ricordo che il mio ragazzo, e ringrazio che qui c'è Paolo che è stato un suo collega, il primo che mi è venuto a casa e mi ha portato, è venuto a prendere la camicia. Ti ricordi Paolo che sei venuto tu quella notte a prendere la camicia per mettergliela indosso, la camicia della divisa ad ufficiale? Io sono sempre stata molto orgogliosa di questa divisa, anche poi perché lui si presentava sempre in questa maniera nelle prime comunicazioni. Infatti le prime comunicazioni avvennero proprio in questo modo. Io l'ho raccontata a Modena ma ve lo voglio ripetere, perché ci sono di quei messaggi che diventano storici e che fanno iniziare un percorso, potessi dare a voi una sferzata di energia come quella che noi ricevemmo quella volta, quando stavamo racchiusi nel nostro guscio, mio marito è Dio, con il fazzoletto in mano, la fotografia in borsa, quanti di voi che ho visto che escono da quella porta alla ricerca del messaggio, ma noi era appena successo, non cercavamo proprio niente, non sapevamo nemmeno da che parte cominciare, da che parte farci, assolutamente no. E la signora che organizzava i convegni mi venne vicino, passò dietro e disse ma cosa, io vi parlo di vent'anni fa, che cosa ha questa bella signora? E io ero lì più morta che viva e mi risposi ma cosa vuole? Mio figlio era un tenente e quindi io sono riservata. E sentì di dietro a me un vulcano, una voce squillante, un tenente, ma è da ieri sera che un tenente cerca la sua mamma, chi poteva mai essere al Movimento della Speranza così, che adesso ormai l'ho vista a Modena e ridotto a un rannocchietto, poverina, era Laura Paradiso, era Laura Paradiso, è un tenente che cerca la sua mamma. Ed è nata così la nostra esperienza, la nostra esperienza proprio come dono, però, vedete, si dice a un certo punto quando la vita ti arriva con una bastonata così potente da toglierti una persona, non parlo di figlio, di marito, di sposo, di madre, di fratello, di sorella, un lutto traumatico ti cambia la vita, non c'è niente da dire, non hai più la stessa visione delle cose, non mi venire a raccontare che tu soffri più o meno di me, il fatto è che abbiamo una sensibilità diversa, ma al dolore, nessuno ha un anestetico, un'iniezione di morfina da poter fare, ci si può rivolgere al sacerdote, e quando ti ci rivolgi che cosa chiedi? Ho perso un figlio, ma non era tuo figlio, tuo figlio era di Dio, Dio si è preso quello che già era suo, no, non mi puoi venire a dire così, io gli ho dato la mia carne, si è incarnato in me, se tu hai voluto un figlio, Dio, padre, tu che ci hai insegnato a chiamarmi Dio, padre, non è vero, il messaggio che mi viene detto è un messaggio falso, perché come ha detto Filippo, Dio è capace solo d'amore, e non è Dio, leggetelo nel quaderno della speranza, non è Dio che ci toglie le persone care, le persone care hanno un loro percorso, hanno una loro scia, promanano tutta quell'esperienza che deriva loro in quei pochi anni, tanti, pochi, che sono stati dati loro, e che a noi sono stati dati come dono, è da questo dono che noi dobbiamo ricavare, come dalle gemme che sbocciano, e che poi diventano fiore, quelle eredità d'affetti, quelle cose importantissime, delicate, che diventano veramente un testamento spirituale, e una guida per noi, per proseguire in quel cammino, che nel tempo che ci è dato, noi possiamo riuscire a percorrere. A questo punto, che cosa ne nasce? Ne nasce una preghiera di affidamento, perché se il padre mi ha insegnato a chiamarlo come tale, la virtù teologale della speranza diventa per me necessità di un continuum, di una comunicazione che esiste al di là del tempo, al di là dello spazio, al di là degli anni che mi sono stati dati. Io ricordo che non è stato facile il percorso con Andrea, per esempio, il piccolino è mancato presto, ma Andrea, 22 anni, un incidente stradale di colpo quando era nel pieno del fulgore della sua carriera, si era anche iscritto a giurisprudenza, ma non era stato facile, perché come tutti i ragazzi, c'è la palestra, ci sono tante cose, un ragazzo giovane, per cui la scuola non aveva di per sé gratificato al massimo che fosse lo studioso sempre sui libri, ragione per cui quando fu il momento, la prima cosa che mi sono chiesta è stato ma perché l'ho fatto studiare tanto, ma perché il mio ragazzo ha potuto arrivare fino a quel punto di crescita per poi lasciare questo, che io in mentore ridotto a 29 chili ho definito guscio, lasci a quel guscio, come ha potuto lasciare questo guscio e a cosa è valsa tutta la mia fatica. Vedete, questo è un interrogativo che ce lo poniamo, ma per chi ho fatto tutto questo, perché il mio percorrere, chi mi ha portato arrivare a questo punto, a dover venire qua a un convegno per sentirmi a dire da una qualsiasi che c'è un percorso che puoi compiere. Beh, attraverso il tempo e con l'accentuarsi di altre sofferenze ho capito che quello che avevo fatto per mio figlio non era vano, perché vedete la stessa teologia, la vita dei santi, ce lo insegna. Se noi guardiamo la teoria in fisica dei vasi comunicanti, quando i vasi sono pieni, dal più piccolo al più grande raggiungono la loro pienezza. È una completezza. Non è che quello piccolo così pieno sia meno pieno di quello grande così. Quindi, ognuno nella propria ricchezza recepisce al massimo quello che la divinità, quello che Dio gli vuole far recepire. ragione per cui quello che io gli ho dato, quello che gli ho permesso nella sua crescita, nella fase di crescita a mio figlio non è andato sprecato perché lui avrà avuto maggiore pienezza e quindi forse anche maggiore capacità di comunicazione. Forse è per questo che non mi ha lasciato mai, forse è per questo che non mi ha mai abbandonato e che l'ho sempre sentito così vicino e tuttora rimasta come sono senza stampelle. È felice, vedi che non ci sono solo le stampelle che cercavi tu prima che diceva non c'è una stampella per il mio cappotto sapessi che bisogno di stampelle che ho io e non di quelle. Tutti noi abbiamo bisogno della stampella per andare avanti. Io non ho più stampelle, ho la casa vuota. Se ne è andato prima mio papà, se ne è andata la mia mamma, se ne è andato il piccolino, se ne è andato Andrea, se ne è andato anche Mentore, se ne è andato a Ferragosto. quel tempo della memoria così importante per noi. Mi sono trovata con una pacca sulle spalle nel momento del funerale e una signora che pure era madre di nove figli la quale mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto vedrà che prima o poi quel figlio diventerà memoria. la memoria è una cosa molto importante che ci viene dato. Non per niente si celebra la giornata dell'Alzheimer. Quelli che perdono la memoria perdono la propria identità, perdono quella che è la loro vita nella primaria essenza. Ma la memoria la memoria non è quella delle carte gialle, non è quella delle cartoline che voi dovete con gli anni sostituire perché con il sole si sono sbiadite perché attraverso il tempo non mi danno più quella freschezza iniziale. Quella non è la memoria la memoria della quale parla il foscolo parlando di cimitero quella non è la memoria la memoria non è sottoterra dove diceva padre Magni si seppelliscono le carote non è lì la memoria la memoria invece è quanto di questo percorso in questo cammino mi è stato lasciato perché quell'anima che ho avuto così vicino così presente che vorrei dire io ho creato perché ho contribuito alla creazione non mi lascerà mai la notte nella quale è mancato mio marito ripeto io dicevo e mi auguravo naturalmente che le cose potessero andare ancora avanti anche se 15 anni di sofferenza vi assicuro che sono lo stremo una botta e via è terribile ma 15 anni di sofferenza e 29 chili è quanto di peggio si possa vedere sulla terra proprio infatti ripeto io dicevo molla quel guscio quella notte perché perché c'erano questi alti e bassi e io vi dico la verità dopo tante sofferenze tante cose negative provate un nipotino paraplegico tante cose insomma non non ne quando proprio non ne puoi più continui a chiedere al Signore non è ancora ora non ne ho la forza non gliela faccio non ne posso più per cui quella notte del 15 di agosto quando il medico mi ha chiamato con urgenza perché non c'era proprio più speranza in questa ennesima crisi dove mi son buttata io ecco la condivisione del pane ho aperto la pagina di Facebook e ho scritto la mia preghiera Signore eccomi eccomi Signore e ho chiesto quello che avevo chiesto a mentore fammi passare il ferragosto è arrivato proprio alla notte al termine mi ha fatto passare la Madonna di Ferragosto noi voi sapete che siamo molto legati alle date per cui per me l'assunta nella mia terra si facevano i falò i fuochi cioè la festa dell'assunta è una festa importante avevo chiesto a mentore fammela passare fammela passare sereno fammela passare in pace e infatti sono arrivata la notte di Ferragosto e ho scritto alle mamme eccomi il mio sposo se ne sta andando se ne sta raggiungendo la casa del padre e mi era arrivata fra le varie le varie condivisioni fra cui questa per esempio solo le persone che hanno conosciuto il dolore che hanno acquisito la consapevolezza piena del fatto che la morte fisica ha solo cambio dimensionale e frequenziale possono scrivere e dire cose così sublimi mentre io scrivevo il mio eccomi padre proprio perché il pane lo stavo spezzando in una sofferenza estrema e mi scrivevano è pur vero che nella nostra povera umanità soffriamo il distacco e la mancanza fisica questa è la cosa più dura da affrontare però ripeto da queste testimonianze da questa solidarietà da questo essere insieme mi arrivò anche la 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 comunicazione il messaggio scritto sotto il commento di padre Maggi padre Maggi lo conoscete padre Alberto Maggi che è alla comunità di Montefano padre Maggi se non lo conoscete il giovedì sera andate dentro centro di studi biblici digitate e alle 8 di sera di tutti i giovedì sera fa il commento al Vangelo è un sacerdote un po' particolare non perché sia peggio degli altri ma semplicemente perché è un teologo e la spiegazione te la dà proprio in chiave teologica tant'è che mi riprese il tuo sposo non ha raggiunto la casa del padre perché la casa è ovunque anche qui perché tutto è vita prima quando c'era il break un signore in fondo non so chi sia comunque forse è qui mi ha detto ma questo titolo dal lutto traumatico un progetto di vita ma cosa dovrà mai dire c'ha ragione mica io ho la chiavetta del computer da mettervi sul video e che con quello andate a casa belle che restaurati certamente no ma vi posso dire che il progetto di vita io ve lo comunico perché io sono l'incarnazione della vita stessa io mi chiedo come posso aver passato questi ultimi 25 anni in queste condizioni e ritrovarmi con tanto desiderio di vita e dirvi che la vita è bella e che merita nella condivisione di essere vissuta e perché ve lo dico ve lo dico perché anch'io ho avuto molto da imparare da voi da tutti da tutte le testimonianze che mi sono arrivate io non posso raccontare chi è presente qui oggi ma lo sa la persona le due persone alle quali mi rivolgo che dolore che calvario stiano soffrendo sono venuti anche a Cattolica li vedo qui e li invito a Cattolica 2013 dal 12 al 15 io so che cos'è la sofferenza è la cosa più grave che ci sia ma la sofferenza è anche un portare avanti una testimonianza e dire io ci sono ancora e se ci sono vi manifesto la speranza che mi è stata comunicata ma non in una fede assurda al di fuori dal nostro contesto non raggiungibile non palpabile la sofferenza è quella che abbiamo visto non nei messaggi non nei Vangeli ma nelle spalle curve di Papa Benedetto la vediamo nel sorriso del bambino paraplegico la vediamo dietro una testimonianza di una madre di un padre per il quale proprio per i quali io ho avuto anche questa grazia ho frequentato un corso a dicembre ed è venuto un professore dal Quebec dall'Università del Quebec ed è venuto per insegnare ad un gruppo di giovani in inglese un corso per accompagnare a distanza le persone corpite da lutti traumatici questo professore che l'ha fatto e che era anche da noi a cattolica è professore all'Università di Sydney in Australia e con sua moglie ha perso in un unico incidente due anni fa gli unici due figli di 17 e di 19 anni nello stesso incidente non si sono arresi e hanno trovato la possibilità di creare questa associazione ecco perché prima si parlava anche di fare del bene comunicandola la Deleo Funda se voi la guardate in internet la trovate sono genitori di due ragazzi che hanno stanno creando dei formatori perché perché vedete spesso accade che voi vicino nel momento della disperazione non abbiate una mano che vi venga data e alla quale possiate comunicare quello che in quel momento vi scoppia dentro in maniera enorme che non riuscite a contenere e non avete nessuno che vi dia quella mano e la preghiera non vi basta e vi occorre qualcuno che ti testimoni e che ti dica che tu sei importante che la tua vita è importante che tu puoi fare qualche cos'altro ed ecco ripeto sono nati i formatori per il telefono a distanza io domani mattina questa sera vado su dopo aver sentito anche il mio carissimo amico il professor Masi che anche lui è stato tanto maestro per mentore per me e tante dritte mi hai dato felice ancora mi dai siete fortunati ad averlo qua a Roma e me ne vado ripeto pur abitando ad Abano Terme avendo fatto tutta sta strada questa mattina per venire fin qui a dare la mia modesta testimonianza però domani mattina voglio raggiungere Tina a Napoli perché Tina ha perso una bimba di nove anni con un sarcoma in due mesi e qui c'è qualcuna di Facebook lo sa bene com'è disperata Tina e voglio andare per far cosa le porto una ricetta le porto una pillola le porto qualcosa le vado a dare un abbraccio io penso che ci si possa anche abbracciare nella sofferenza e che questo basti e vado da Tina per abbracciarla per dirle che io ci sono che so quello che lei sta provando ma so anche che la sua bimba come il mio Andrea come tutti i vostri cari non se ne sono andati mai perché come dice padre Maggi è tutto vita è vita quello che vi sto comunicando parlandovi perché se mi ascoltate con tanta pazienza vuol dire che avete capito pensate il dono che abbiamo proprio di avere un cervello pensante che nel momento stesso in cui tu stai elaborando un pensiero che di per sé è complesso perché io vi sto invitando ad un abbraccio e ad un atteggiamento di speranza quando magari siete lì nella disperazione più nera o in attesa di un messaggio che vi venga dato comunque con qualche parola ma non è una ricetta quella perché la mano che voi cercate la trovate solamente in fondo al vostro braccio ed è quella che vi può aiutare ad andare avanti perché allora arriva la comunicazione e io a Tina glielo sto dicendo da tanto Tina se non stai serena non arriva da te la tua bimba si chiama Dalia e ci siamo trovati una sera a condividere questo pane nelle nostre pagine di Facebook e lei all'improvviso dice ma come e lo dice a noi che eravamo lì erano tardi io fra l'altro stavo dando lo straccio per terra perché grazie a Dio i nipotini erano andati avevo un sacco di cose da fare perché io non sono un bello spirito io comincio la mattina alle 5 e mezza fino alle 2 di notte devo tirar dritto perché non c'è tempo non c'è tempo da perdere non c'è tempo da sprecare e stavo facendo le ultime cose e vedo che dice ma guardate lo vedete anche voi lei aveva digitato un sul computer la ricerca di un cellulare usato l'hai visto felice con la testimonianza è straordinaria perché ha digitato e è venuto fuori ebay con la descrizione del cellulare solo che nella foto venivano delle daglie o dei cuori con scritto ti amo non è una storia perché l'abbiamo fotografato cioè abbiamo fotografato questa esperienza c'eri tu c'eri quella sera appunto c'eri quella sera ecco e quella sera appunto esatto sì ma l'hai vista quella testimonianza e si vedevano le daglie e i cuori il fatto è che all'improvviso io reduce dalla mia esperienza del movimento della speranza gli ho scritto hai visto Tina sono carezze di Dio in quel momento apro ebay anch'io e vedo ebay vende le cose usate ma le cose strausate le cose importanti cosa c'era perché anche quello l'ho fotografato ed è andato a finire come testimonianza cioè mi compare io gli dico sono carezze di Dio e mi compare su ebay dopo la daglia e dopo i cuori di Tina compare la immagine del libro di Mario Mancigotti carezze di Dio che è del 1990 ma che ci faceva su ebay a quell'ora e in quel momento tant'è che l'ho immediatamente ho preso fuori il cellulare di tasca l'ho fotografata e l'ho mandata perché le madri debbono vederle cioè se questi non sono segni di sopravvivenza di sopravvivenza vera è inutile che andiamo a cercare dalle varie mamme dai soggetti psichici dotati ringraziamo Dio che ci siano le mamme carismatiche e non i medium a pagamento ringraziamo Dio che possiamo avere un messaggio ma quando abbiamo quel messaggio e siamo convinti convinti che quello è vero che l'identità che mi dà mio figlio è reale io non debbo più cercare nulla perché questa è la vita questo è il progetto di vita la mia vita è questa in questo momento è qui questo è il pane da spezzare volevo dirvi che in quel momento quando è accaduto signora che ora mi devo fermare quanto 5 minuti abbiamo slittato va bene allora nella mia ricerca di conferme di prove a un certo punto anche una pagina ti può riuscire importante e nel mio sito internet dove io pubblico tutte queste cose straordinarie che avvengono mi risponde un lettore molto preparato teologicamente preparato mi dice ecco voglio dirti semplicemente questo il pane che hai spezzato per il tuo compagno ritorna a te in questo tempo ascolta cosa scrive Henry De Luca voi lo conoscete il giornalista che ha ecco lui nella sua esperienza da muratore racconta di essere passato da Valencia che è una città spagnola come voi saprete sul mare Mediterraneo e lui dice una volta avevo un fiume che la attraversava il Guadalaviar ma ora il suo corso è stato deviato è l'unica città del mondo che io sappia che si sia sbarazzata di un fiume ci sono stato l'anno scorso in ferie invitato da un editore che aveva tradotto il mio libro nella lingua catalana e ho percorso la città a piedi e per conoscere e vedere che cosa era successo dei posti che avevo visto e ho visto mercatini puliti e lotterie mure romane lavoro in corso ma infine l'ho trovato il letto vuoto i ponti su di lui come se ci fosse ancora ma il fiume non c'è più e al posto di una corrente e si sente anche il mare vicino hanno piantato delle palme e hanno costruito un lungo stagno con pesci rossi e dice mentre io guardavo dall'alto del ponte ho visto arrivare un uomo anziano con un cagnolino e reduce forse dei tempi nei quali c'era ancora il fiume aveva una pagnotta di pane e ha cominciato a sbriciolarlo e ha detto io guardavo dall'alto e vedevo che il pane che lui spezzava costruiva una corrente che poi ritornava a lui ed ho pensato guarda quando tu spezzi il pane le cose tornano a te cosa ci può essere di messaggio più bello di quello della condivisione dello spezzare il pane di farsi umili fra i poveri di dire agli altri io sento quello che provi tu ma vedi come dicevamo nel dopoguerra quando non avevamo proprio il pane da mangiare e si diceva abbiamo ancora speranza adesso sembra che la speranza sia andata a farsi benedire perché forse non viene fuori neanche il governo ma comunque non importa la speranza è una virtù teologale ed è della gente forte e noi qui se vogliamo noi possiamo essere testimoni perché ne abbiamo da vendere messaggi di questo tipo voi direte ma tu sei stata fortunata perché hai ricevuto fin dall'inizio e hai ricevuto delle cose importanti sei stata fortunata e forse sei anche un soggetto graziato e molte mamme anche su facebook mi dicono ma come fai Edda come fai ad essere sorridente serena ad essere sempre presente sempre disponibile chi è che ti dà questa forza e allora io dico beh questa è la dimostrazione che c'è qualche cosa nell'oltre che mi aiuta e che mi fa andare avanti e sono andata avanti senza nessun merito mio il merito è venuto tutto dall'alto e viene proprio come grazia quando tu dai questa disponibilità vorrei aggiungere due aneddoti ma piccolissimi perché è accaduto proprio come si chiese a Francesco quando c'è nei fioretti c'è questo racconto che fra masseo gli chiese a Francesco ma perché tutti vengono da te che non sei né bello perché Francesco sappiamo era piccolo e poi fra l'altro sembra che avesse anche un orecchio più grande dell'altro non lo so non sei bello non sei istruito non hai studiato sappiamo che ne aveva combinati tutti i colori e dice che Francesco ci ha pensato un attimo ha alzato gli occhi al cielo ha allargato le braccia e poi ha detto perché il Signore guardando sulla terra non ha trovato uno più disgraziato di me e infatti con mio marito dicevamo sempre quando ci dicevano ma voi avete tanto forse perché siamo stati dei poveri disgraziati che non sapevano rassegnarsi e nella loro determinazione hanno trovato quel filo conduttore un filo conduttore che poi quel bello spirito di Padre Maggi perché fra l'altro è anche un bello spirito racconta sempre su Facebook ricordo che tanti anni fa predicai un corso di esercizi alle suore ed iniziai proprio con questo brano del Vangelo quello dello spezzare il pane di Paolo nella prima lettera ai Corinti quando dice che il Signore ha scelto quanto il mondo disprezza e chiese a queste suore sorelle sapete perché il Signore vi ha scelto nella vita religiosa si illuminavano come dei flash già pareva di capire per le mie preghiere per la mia castità per la mia verginità per la mia e Padre Maggi dice ho detto perché peggio non ha trovato svenute sotto i banchi eppure è importante questo perché così ci si ridimensiona e soprattutto nel momento dell'insuccesso come mi dice Tina Edda ci ho provato ma poi non è arrivata ancora Dahlia nel momento dell'insuccesso è lì che dici al Signore fai tu perché io non posso far altro ed ecco allora cari amici che io vorrei proprio concludere con questo nella pagina di Facebook di Rosa dove arriva la sera il mio amico felice c'è anche la preghiera all'abbandono del padre di Charles de Foucault la dovete cercare perché si dice proprio padre io mi abbandono nelle tue mani fai di me quello che vuoi fai come ti piace tu hai un progetto su di me tu sai che cosa io posso dare io non mi fido di nessuno mi fido solo di te e mi metto nelle tue mani il pane il pane è tutto pane da spezzare è luce da condividere è questo il progetto di vita che vi propongo la condivisione e la testimonianza e mentore la prima comunicazione che mi ha mandato attraverso Venera Siracusa alcune lo conoscono di Facebook sempre mi ha mandato il primo suo messaggio che di qui era mi chiamava la sua piccina nonostante fossimo vecchi ma c'erano 16 anni di differenza e mi dice spandi intorno il tuo profumo e vestiti di foglie di fiori è stata la prima cosa che è arrivata due giorni dopo tutta vita vita da vivere come dono datoci gratuitamente perché tutto vedete tutto tutto è un progetto di vita per noi grazie 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 a tutti